E' un vero e proprio dato allarmante. Quale? Quello dell'assenza di medici giovani in servizio nella maggior parte dei presidi ospedalieri del territorio locale. Non è una novità, ma una amara constatazione che arriva dal dottor Pietro Greco, responsabile dell'unità operativa di neurologia all'ospedale Luigi Curto di Polla, certamente fa riflettere. E' una domanda se l'è posta lo stesso professionista che su Facebook ha scritto L'interrogativo è questo. Dov'è il rinnovamento? Riferisce il dottor Greco. E tra due o tre anni chi lavorerà presso il curto? L'assenza di medici giovani nel presidio ospedaliero valdianese mette infatti in evidenza quello che potrebbe succedere di qui a poco e per Greco situazioni del genere potrebbero anche condurre alla chiusura degli ospedali di periferia. Ecco dunque chi arriva all'appello. Tra poco verranno in tanti a blaterare e a chiedere voti, riferisce Greco, ma noi abbiamo bisogno di gente che ci tuteli, che la politica tuteli tutti i cittadini che hanno diritto alla buona assistenza. Innanzitutto ci vogliono medici giovani che dovrebbero integrarsi con l'esperienza dei medici anziani. Nonostante la validità e la professionalità degli attuali sanitari del curto, il passaggio di testimone è importante.